Il tuo primo romanzo, E se accadesse, è ora disponibile per chiunque volesse leggerlo, non è però il tuo primo libro, già per Erga Editore avevi pubblicato una raccolta di fiabe. Sì, dopo questa raccolta di fiabe pubblicata nel 2015 con la Erga di Genova, ho proposto a una casa editrice diversa questo romanzo, dal titolo E se accadesse, è un romanzo che ho iniziato a scrivere quando avevo 18 anni, che poi è finito, è concluso, però poi qualche anno fa l'ho ripreso in mano, l'ho un po' riambientato, gli ho dato delle connotazioni un pochino più interessanti, anche rivenendo la caratterizzazione di certi personaggi, un po' anche attraverso la maturità che ho acquisito nel tempo, sia come età, ma anche come studi e come lettura, L'hai definito un romanzo paradossale, che cosa vorresti dire senza svelare troppo? Sì, è un romanzo paradossale nel senso che la protagonista, che è questa, una dei protagonisti, è questa pittrice che va a Parigi in cerca di fortuna con i suoi quadri, i suoi schizzi, i suoi dipinti, dipinge una tela con un volto, ma questa tela scompare e dal libro si capisce, dalla trama del libro, che questo volto è diventata una persona, però perché è paradossale? Perché questo uomo poi scompare e questa sua vita vissuta poi riappare sulla tela. C'è dell'autobiografico? Non è un'autobiografia, ma i diversi protagonisti della storia accolgono nella loro vita parti di me. Questo è quello che potrebbe esserci di autobiografico. Dove possiamo acquistarlo? Allora, il libro si può acquistare online sul sito della casa editrice della CTL di Livorno, ma anche sulle piattaforme classiche tipo Amazon, Feltrinelli, quindi lo potete trovare anche lì. Grazie. Grazie.